Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, un chilometro di coda per traffico tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud e coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Ci spostiamo sulla Firenze Mare e coda per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili troviamo rallentamenti per traffico all'altezza di Firenze e Scandici in direzione ingresso città. Siamo al traffico urbano di Firenze e quest'oggi aprirà al transito il nuovo sottopasso veicolare Strozi Strozi, tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, le Euronite 35-295 Monaco-Roma Termini sta viaggiando con 41 minuti di ritardo. Il transito ha chiusi al momento previsto alle 8.26, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!